Buonissima anche con la nostra palleggiatrice Sonia Garazzo, anche lei una battaglia pazzesca è una grande soddisfazione però vincere questa prima in campionato Sonia Sì dai diciamo che vincere la prima in casa cioè non si spiega nel senso che dovevamo farlo per forza E non è stato facile però comunque, cosa è successo un po' nel terzo set Sonia? Allora secondo me gli ultimi due punti del set che abbiamo perso avrei da rivedere qualcosa con l'arbitro, non c'era il video certo, però comunque abbiamo faticato cioè abbiamo sbagliato qualcosina nel senso ci sta, abbiamo avuto un calo poi però per fortuna ci siamo riprese Vabbè e l'importante era debuttare bene, la cosa bella il pubblico Sì sì io non mi aspettavo c'era tanta gente e speriamo che questa sia una volta Speriamo che ritornino alla prossima volta a rivedervi Grazie Sonia, bocca al lupo, complimenti